Faccio emoso sentirmi, dire che sono italiana e trasmette la mia italianità attraverso la mia moda perché la mia moda racconta la moda italiana, la nostra cultura, la nostra sartoria e la femminilità perché è una cosa che sento. Questa collezione rappresenta pienamente queste cose, trasmette, già lo vedete così come primo colpo d'occhio trasmette solarità, trasmette energia, trasmette anche voglia di vivere, di essere donna, di vestirsi, lo trasmette attraverso il colore, dicevamo, attraverso anche i tessuti, sono tessuti ricamati, ci sono i sangali molto belli, delle musce leggerissime, pizziche che magari emergono da sotto per le trasparenze non così evidenti ma che sono sempre un segno di durabilità, ricami tudimensionali, tranquillanti, è una donna comunque leggera, è una donna fluida.